sono partito, facevano fritte pazze, già sento caldo ma non vale la tecnica io sono pure in Canada, che gli ho guai il prossimo pezzo di calore ne ha tanto perché è nato a metà tra Napoli e Senegal sono più vicini di quanto si pensa in realtà Allora ragazzi! Allora ragazzi! Allora! Allora ragazzi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.